In conseguenza, io ribadisco che la data fatidica è la sentenza della Corte Costituzionale che è stata emessa a aprire. L'alta Corte, quella che giudica le leggi dello Stato italiano e quindi le leggi fatte dal Parlamento e non è appellabile, ha stabilito che il divieto dell'eterologa era incostituzionale perché riguarda il diritto alla genitorialità e il desiderio di avere un figlio che è un fondamento della libertà la più intima della persona in quanto tale incoercibile. Quindi questa è la sentenza della Corte Costituzionale. Due, rileva che esiste un elemento di ingiustizia perché chi può e ha i soldi poteva andarsela a fare all'estero e chi non ha i soldi non poteva farsela, l'eterologa. E tre, che ci sono le leggi e non c'è nessun voto normativo. A partire da questa sentenza la Regione Toscana ha adottato, non prestissimo anche noi, ma già a luglio una delibera che stabiliva delle metodiche tecnico-sanitarie per rendere più chiaro il percorso di sicurezza, le modalità di attuazione, tutte cose per le quali appunto, come è evidente, non occorre nessuna normativa perché le normative già esistono.